Grazie. Le battaglie politiche nascono dalle idee e ci vorrebbe qua una panchina come quella di Forrest Gump per raccontarvi una storia alla Forrest Gump che riguarda me. In questo momento io sono Forrest Gump, spero non per il quoziente intellettivo, ma questo lo giudicherete alla fine. C'è una vicenda, sapete Forrest Gump si trovava sempre in mezzo per tutti gli eventi, il Watergate nasce perché lui fa una telefonata in un momento in cui vede un trambusto e nella delegazione dei giocatori di ping pong che va in Cina e fa nascere la distensione fra Stati Uniti e Cina e si trova in altre circostanze in cui fa nascere qualcosa. Mi è capitata una cosa del genere con Warren Mosler e vi dico in che modo. Nel 2012 dirigevo Megachip, una rivista online che faceva proprio battaglia delle idee e avevo tradotto un bellissimo articolo di Warren Mosler e di Philip Pinklington che descriveva un modello che si poteva adottare in Europa per risolvere il problema della liquidità. L'Europa era allora come oggi dominata dall'euro, una gabbia che impedisce di fare quello che dovrebbe fare la Costituzione italiana, cioè la politica economica, per rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza, questo è il compito della Repubblica, e c'era una soluzione molto semplice. Lo Stato poteva emettere dei certificati, dei titoli di Stato che erano spalleggiati, coperti dalla fiscalità. Era una specie di moneta fiscale e lo Stato poteva riappropriarsi della moneta. Questa è una questione importantissima. Pubblicai quell'articolo, anni dopo vidi che c'era un gruppo di intellettuali economisti italiani, un ex direttore esecutivo della Banca Mondiale, che avevano elaborato proprio un'idea di moneta fiscale per l'Italia. Ci parlai con loro e facciamo diventare questa proposta una proposta di legge. Tra l'altro si discute anche la prossima settimana nella Commissione Finanze. E chiesi a loro, ma vi siete accorti che somiglia a questa vecchia proposta di Mosler? Veramente l'abbiamo iniziata proprio perché avevamo visto questo articolo in italiano. Ecco, mi sono trovato come Forrest Gump a veder ritornata verso di me, verso di noi, un qualcosa che era nata lontanamente nel tempo. Questo per dirvi che le idee camminano e le idee sulla liquidità, sui soldi che lo Stato deve spendere per risolvere tanti problemi che altrimenti rimangono nello sfondo, è un tema centrale che viene trascurato. Io il rimprovero più grande che faccio alle classi dirigenti italiane, quelle politiche, degli ultimi anni, è che hanno rinunciato a discutere di questo. Non si vogliono appropriare di questo tema. E quindi si occupano dei milioni, ma non si occupano dei miliardi. Si occupano del sottobosco politico, delle decisioni per cui possono vantarsi con un comunicato stampa. Abbiamo stanziato 70 milioni per fare le aiuole in tutta Italia, ma non si occupano dei miliardi. Quelli li lasciano al Deep State, a quella entità molto nascosta che però decide tutto. I tecnici, i Franco, le parti profonde della Banca d'Italia, la ragioneria generale dello Stato e su di loro avvegliare draghi. Ecco, credo che questo sia un rimprovero storico da fare a chi è rinunciato, a chi è stato rinunciatario. Cioè la scelta di giocare la partita da gregari. E anche se facevano la voce grossa, anche se dicevano parole guerriere, lo ricordava prima di Battista, l'idea di presentarsi come rivoluzionari e poi sopire e troncare, come nella tradizione italiana. Mario Draghi da 30 anni è l'autobiografia di una nazione in declino. È sempre stato lì. Ecco, lui è un super Forrest Gump. Lui c'era in tutte le situazioni che hanno cambiato la storia dell'Italia, però con un effetto molto più grande di quello di Forrest Gump o delle nostre piccole influenze sulla vicenda storica. Ne era consapevole, mi ricorda una delle persone presenti in sala. Giustamente, era consapevole di quello che stava facendo. Era un progetto, il progetto del declino dell'Italia per sacrificare tutti i valori della nostra Costituzione e sacrificare interi ceti sociali, interi territori al dio della finanza. Allora, cosa si sta perfezionando? Credo che il problema della presenza di Draghi nella vita pubblica italiana non sia passeggero, non è un governo balneare, non è un governo di compromesso, non è un governo di generica emergenza. È un progetto politico al quale si sono accodate tante forze di maggioranza. Questo problema ha due sintomi gravi che agiscono a Tenaglia e un sintomo gravissimo che è il vero elefante nella stanza. Partiamo dai sintomi gravi. In questo momento il Parlamento è azzerato, annichilito, non conta nulla. Passano soltanto dei decreti determinati dal governo, non si può discutere, non si può emendare, non c'è più una rappresentanza che possa far passare delle correzioni rispetto a un modello di Italia che è quello dell'austerity tradizionale che si sta riproponendo. L'altro pezzo della Tenaglia, l'altro sintomo grave è il sistema dell'informazione, totalmente asservito, il peggiore di tutto l'Occidente che ha un'agenda, un modello quasi inscalfibile che rappresenta il sintomo più evidente proprio di una patologia del dibattito pubblico italiano. Però c'è un sintomo ancora più grave ed è l'elefante nella stanza e devo dire è l'elefante nella stanza che non ha voluto notare di Battista nel suo intervento prima. Ed è questo stato di emergenza che perdura da molti anni, ha ragione Cacciari a dire che sono decenni che siamo in perenne stato di emergenza, cioè un modello di governo della cosa pubblica che annichilisce il Parlamento, si fonda sempre su cause esogene che giustificano un'azione dello Stato illimitata e che porterà a trasformare la democrazia italiana fino ad annullarla totalmente. Oggi c'è la leva del Covid e quindi il Green Pass non è una questione per cui bisogna avere delle preoccupazioni da influencer e se mi espongo lì insomma saremmo assimilati ai no-vax. Non è una questione di vax e no-vax, è una questione di governo della cosa pubblica, è un modello per il quale si stabilisce che ci siano delle norme per le quali le tue libertà fondamentali possono essere limitate per un provvedimento di tipo amministrativo che cambia nel tempo, che non ha solidità, non ha fermezza, non ti dà un orizzonte, non ti dice quando termina. Non si sta parlando solo dei vaccini, si sta parlando proprio di un modello sociale, infatti la prima cosa che è stata colpita sono i diritti dei lavoratori in un contesto in cui l'Italia da sola e per prima sta facendo cose che altri Stati non hanno voluto fare. Questa cosa non è presente nel dibattito che rende tutto provinciale, che rende tutto equivocabile, come se fosse una battaglia, un gossip, una questione di poco conto. No, è un punto centrale del futuro, lo combatteremo in minoranza in questo momento, lo dovremo combattere perché le minoranze che vedono lontano vanno molto più avanti. Io credo che questo modello poi sottenda a una organizzazione dello Stato che cambierà il bilancio. Non ho un giudizio positivo, non lo abbiamo, un giudizio positivo sul PNRR, il recovery plan, perché arriveranno poche risorse, lo dicono anche molti della fionda qui presenti, cioè ci sarà un saldo di risorse modesto mentre ci sarà una riorganizzazione del bilancio dello Stato per centinaia di miliardi che dovremo restituire, che non sono soldi aggiunti. C'è una riorganizzazione di un pezzo del bilancio, una fetta del bilancio dello Stato che sarà sottratta al Parlamento e sarà gestita da tecnici. Questa è un'innovazione nella governance della Repubblica che avrà delle conseguenze e durature molto gravi e questo sarà giustificato con l'emergenza, con ogni tipo di emergenza, ne troveranno altre. Ci sarà l'emergenza a debito, ci saranno le spread. Quindi di fronte a un pericolo così estremo non è il momento di andare nelle seconde file, è il momento di fare battaglia, di schierarci, di schierarci per davvero, di schierarci con le forze che vogliono in tutta Italia creare una prospettiva di alternativa. Ed è questo il nome che abbiamo scelto per il nostro movimento. Ci saranno delle novità nelle prossime settimane proprio perché cercheremo di creare una opposizione pluralista molto ampia in tutto il Paese. in modo che si superi l'austerity mascherata del governo Draghi, in modo che si pensi alto per unire le opposizioni, in modo che non ci siano gli esami del sangue per tutti coloro che si vogliono alleare, tranne il fatto di essere persone convintamente democratiche e dimostrabilmente democratiche. Bisogna superare questo biopotere che si sta impadronendo della vita pubblica del nostro Paese come esperimento che potrebbe estendersi ad altri Paesi. Quindi nelle prossime settimane noi costruiremo una forza che dovrà essere il più possibile popolare. Dovremo unirci, unire le forze, non essere timidi di fronte alle difficoltà che dovremo affrontare, che saranno tante in questo momento. Sarà una fase storica tra le più dure della storia repubblicana. Però vedo dei segnali nel territorio. Abbiamo visto Firenze ieri, 40.000 persone in piazza, ne vedremo altre prossimamente. Dovremo esserci, dovremo unirci, unire le nostre forze e dovremo creare anche un nostro canale audiovisivo, perché la cappa della informazione, che è uno strumento di propaganda al servizio di un progetto di distruzione della democrazia, deve essere rotta. E quindi noi siamo per rompere, per rompere le scatole, per unire insieme, per creare una nuova fase della vita repubblicana, per l'alternativa.